ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video che non credo avrà mai molto successo questo video per dirvi sono riuscito a caricare velocemente dei video vi farò osservare un pochino il mondo schifoso ovviamente con il mio nudus che è molto bello e dirmi cosa volete di più che io faccia che tipo di giochi e quali giochi ovviamente io non so che dire emozionatissimo camere di youtube e sto facendo oltre a tutto lo scenario buono vabbè sono tornato su youtube dopo un po di tempo in cui eravate felici che non c'ero più dopo quelle quattro schifezze di video sto tornando vabbè qui da capo figo è tutto io vi saluto ciao ciao e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti